Che cosa succede quando inseriamo una nuova luce in uno studio piccolo come il mio? Vi faccio vedere questo che è il risultato finale e adesso andiamo a vedere l'unboxing e andiamo a vedere come siamo arrivati a questo risultato. Prima di cominciare però vi ricordo che potete sostenere questo canale semplicemente iscrivendovi, il bottone è qua sotto, vi aspetto, cliccate anche sulla campanella così non perdete le notifiche, lasciate un like a questo video perché se al termine deciderete di acquistare questa stessa luce sarà tutta colpa mia. Unboxing time e abbiamo qui una bella lucetta di cui adesso vado a fare lo spacchettamento, lo so, qualcuno di voi si starà domandando ma qualche video fa non avevi detto che nel 2023 non avresti fatto acquisti? Beh ragazzi intendevo acquisti impegnativi, intendevo fotocamere, intendevo obiettivi, da quel punto di vista credo proprio che non comprerò niente quest'anno ma qui abbiamo una bella scatoletta di cui adesso vado a farvi un succoso unboxing. Mi spiace di non riuscire a fare un'inquadratura un po' più carina però questo studio è piccolo ed è concepito in una certa maniera e quindi per fare un'inquadratura da sopra dovrei fare tutto un accrocchio che non avete idea per cui mi organizzerò anche per fare quello ma per il momento accontentatevi di vedere gli oggetti che emergono come per magia. Allora ovviamente stiamo parlando della Godox SL60, una lucetta molto molto carina di cui vi ho già parlato ma di cui non avevo fatto l'unboxing perché avevo stupidamente buttato via la scatola. Per cui la prima cosa che mi viene in mano è il libretto di istruzioni seguito da un cavo dell'alimentazione veramente mastodontico, a giudicare dalle dimensioni saranno credo tre metri di cavo, è un cavo veramente gigante. Ora vi faccio vedere la scatola semplicemente per mostrarvi che non è una bella scatola, è una scatola di cartone senza loghi, senza niente e dentro abbiamo l'imballo, un polistirolo a parte dell'imballo, vado a posarla qui. Qui all'interno abbiamo un pacchettino che contiene, io lo so già perché ne ho già una di queste, questo contiene il telecomando, questo è un affarino molto interessante perché è piccolino ma è potente nel senso che qui c'è la silica e qui ci sono le istruzioni del telecomando, cosa formidabile! Un libretto di istruzioni formato sigaretta minuscolo riferito solamente al telecomando. Ora andiamo a tirarlo fuori, questo qui è un telecomandino molto molto simpatico che però è abbastanza versatile perché mi permetterebbe, se ci fossero le pile inserite, cosa che non sono fornite, mi permetterebbe di andare a dimmerare la mia luce dalla distanza per cui io stando me ne è comodamente seduto potrei dimmerare la mia luce senza muovermi e senza toccarla, molto molto carino e incluso nel prezzo per cui assolutamente gradito. Proseguiamo e vado a tirare fuori questo, come potete vedere è il riflettore con la monta Bowens che si va ad attaccare sulla nostra luce, lo mettiamo momentaneamente qui ed eccoci arrivati al pezzo forte, vado a estrarre. Ok per cui adesso la scatola non ci serve più, la vado a posare. Ok eccoci qui, come potete vedere la luce è questa, non è tanto grande perché non occupa tanto spazio, è una luce di dimensioni tutto sommato contenute. Ha una bella maniglia che per esperienza vi posso dire questa è una maniglia che si rompe perché ne ho rotta una una volta di queste qui con il trasporto o cose del genere, si rompe però, perché comunque è di plastica, però finché non si rompe, se non prende colpi funziona benissimo. Questo questo tipo di luci io ho già avuto ampia esperienza con Godox e mi sono sempre trovato bene perché fondamentalmente sono delle luci che funzionano bene, ti danno una bella luce con una ottima qualità, una buona emissione, mi trovo bene, non ho assolutamente nulla da recriminare, ecco diciamo che non sono proprio heavy duty, non possono prendere botte, non si può maltrattarle all'inverosimile perché a quel punto accusano piuttosto male, ma se le trattiamo bene sono delle ottime luci, sono degli ottimi prodotti. Qui come potete vedere abbiamo la, non so se riuscite a vederlo, abbiamo la vitina che serve per attaccare un ombrello, quindi noi possiamo montare un ombrello direttamente su questa luce oppure possiamo andare a montare un modificatore sulla monta Bowens. Ora facciamo una bella cosa, andiamo ad aprire e io adesso faccio questa cosa, ok eccola qui e vado a riavvitarla, ok quindi questa è la nostra bellissima lucetta. A questo punto io la oriento in maniera tale che la possiate vedere un po' meglio e vado a ristringere. Qui noi abbiamo il nostro attacco, possiamo andare a svitare questo che è il cappuccio e al posto del cappuccio andiamo a montare il nostro riflettore. Ora noi qui abbiamo un riflettore con il nido d'ape, spero che riusciate a vederlo, il nido d'ape è un oscurante quindi andando a tiltarlo si oscura l'emissione e abbiamo anche il cappuccio per cui sull'oscurante io vado a montare il cappuccio. A questo punto andiamo a trovare gli innesti, eccoli qui e una volta dentro lui fa clac. Eccolo qua, questa qui è la nostra lucetta con il modificatore montato. Ora siccome io immagino che non vediate l'ora di vederla accesa, mi sono procurato la corrente. Dunque vado a inserire e vado ad accenderla, vediamo a che potenza viene. Perfetto e lei si accende, come potete vedere è in funzione, qui abbiamo un'emissione del 10%. Ora io sto utilizzando questa stessa luce per illuminare me stesso, quindi in realtà la state già vedendo in azione. Allora intanto vi faccio vedere che qui siamo su canale 15A, quindi questa è una cosa che si può modificare. Qui dietro abbiamo la rotella della potenza con cui io posso andare a variare. Vediamo se riesco a farvi vedere. Vedete che la potenza cambia, per cui così siamo a 40%, 70%, ma per adesso noi ci fermiamo a 15%, che è una potenza più che sufficiente. Adesso provo a orientarla verso di me, così vedete l'emissione. Ok, vedete? Questo è un modificatore che qualcosina taglia, però comunque già al 10%, diciamo che illumina è una luce che funziona. Quella che state vedendo in questo momento, che illumina la scena, che illumina me nello specifico, è a 35%, quindi non le metto quasi mai al massimo. Queste sono delle luci che hanno una ventola che va a raffreddare i meccanismi interni, per cui quando si va ad aumentare troppo la potenza entra in funzione la ventola e può fare un po' di rumore, che soprattutto durante la registrazione di un video può dare un po' di fastidio. Adesso io vado a posizionare questa luce alle mie spalle e vi faccio vedere cosa avevo in mente di farci. Ok, in questo momento io ho spento la mia luce principale, per cui vedete che cosa fanno la mia Godox RGB sulla mia destra, quindi sulla sinistra del monitor, e vedete che cosa sta facendo la lucetta alle mie spalle, che quindi sta gettando questa kick light su tutto il retro del viso. Ovviamente è una cosa che io stavo già facendo con la luce blu, che era un'altra RGB light, quindi adesso posso andare a giocarmela con queste due per ottenere una miscela di qualche tipo, andrò a giocarci perché non ho ancora deciso esattamente quello che voglio fare. Un'altra cosa che potrei fare potrebbe essere anche quest'altra invece. Questa è un'altra idea, posso usare questa luce anche per dare separazione tra me e lo sfondo e così otteniamo un effetto che è diverso. Adesso vediamo che cosa succede se riaccendiamo la nostra luce principale. Ok, come potete vedere sussiste una differenza tra prima e adesso, perché adesso c'è un alone di luce alle mie spalle che ha l'effetto di staccarmi ulteriormente dallo sfondo. Ovviamente devo andare a decidere bene dove posizionare questa seconda luce se decido di usarla in un contesto di studio come questo. Ovviamente non è l'unico motivo per cui vado a introdurre questo nuovo acquisto, questa luce la andrò a utilizzare soprattutto per realizzare fotografia 360 di prodotti. Una cosa che sto cercando di introdurre nel mio flusso di lavoro perché molti clienti lo richiedono e quindi andrò a farvi vedere qualcosa di finito una volta che avrò terminato i lavori. Per adesso non ho nulla da mostrarvi, per cui termino questo video semplicemente dandovi qualche informazione in più su questa lucetta. Questa è una luce che ha un output di 4100 lux e una temperatura colore di 5600 kelvin. Te la vendono come luce da daylight, cioè dovrebbe mecciare quella che è la luce del giorno. Questo per me è molto comodo perché impostando esattamente quella temperatura sulla fotocamera che sto usando io non ho bisogno di bilanciare il colore, risulta già bilanciato in inquadratura, quindi mi fa risparmiare un sacco di tempo. Ovviamente ha, come già detto, una ventola per il raffreddamento e un display LCD sul retro con una rotella che permette di selezionare la potenza. Inoltre, come già detto, viene con il suo riflettore fatto apposta e il telecomandino che possiamo usare per dimerarla a distanza se inseriamo le pile, cosa che io adesso non ho fatto. A questo punto vi aspetto anche nei commenti, fatemi sapere qual è il setup luminoso che preferite. Io li sto provando un pochettino tutti, ci sto giocando, mi sto divertendo un sacco. Fatemi sapere se ce n'è uno che vi piace più degli altri. Voglio vedere se c'è qualcuno che ha il coraggio di dirmi di spegnere la principale e di lasciare soltanto il resto. Che comunque non è male. Così, è una situazione un pochettino diversa, è molto noir. Il fatto è che non mi si vede più in faccia, cioè divento veramente un fantasma, per cui credo di preferirla accesa. Ecco, esperimenti come questo però vi danno un'ottima idea di come si fa a impostare le luci. Normalmente le luci si accendono una per volta per rendersi bene conto di quello che stanno facendo, in maniera tale che riusciamo a stabilire quale deve essere lo scopo di ciascuna luce. È inutile introdurre luci se non è necessario. Per cui adesso andrò a fare un ragionamento comunque anche su questa luce nuova che ho introdotto. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale, datemi un po' di sostegno anche con un like, lasciate un commento se avete domande e signori io vi do appuntamento al prossimo video.